Vi si è rotta la chiave nella serratura? Si è lagato il bagno? Il vostro giardino è pieno di erbacce? Ho una soluzione per tutte queste antipatiche situazioni. Ve lo svelo tra poco qui su Tech Princess. Se fino a poco tempo fa avreste risolto questi problemi aprendo le famigerate pagine gialle ora vi basta avviare il computer e cercare Eugenio. Si tratta di un portale tutto italiano specializzato nella cura della casa e della famiglia. Qui potrete trovare professionisti qualificati accuratamente selezionati e costantemente monitorati. Idraulici, elettricisti, giardinieri e disinfestatori sono solo alcune delle categorie che troverete su Eugenio. Facciamo un esempio concreto. Immaginate di avere il bagno intasato. Invece di cercare soluzioni creative e fai-da-te potete recarvi sul sito di Eugenio, selezionare la categoria adatta ed indicare l'indirizzo di casa e il numero di scarichi da disotturare. A questo punto avrete già in mano un preventivo e tutto quello che dovrete fare è selezionare la data e l'orario del servizio scegliendo tra quelle disponibili. Cosa differenzia Eugenio da altri portali simili? Prima di tutto la tempestività. Eugenio si impegna infatti ad intervenire entro due ore dalla chiamata in caso di emergenza ed è attivo 24 ore su 24. Nei casi non urgenti invece potrete concordare l'orario. Inoltre il costo del servizio non viene calcolato a ore, quindi la tariffa è fissa indipendentemente dalla durata dell'intervento. Infine il pagamento avviene tramite carta di credito direttamente sul sito di Eugenio. Questo vi eviterà di avere contanti in casa o di dover pagare direttamente il tecnico. Tra i servizi di Eugenio ce n'è persino uno in abbonamento. Sul portale infatti potete richiedere un servizio di pulizie professionali che può essere svolto una volta sola o più volte a settimana. In questo modo non dovrete perdere tempo a cercare una persona di fiducia che vi aiuti con le pulizie di casa, ma potrete affidarvi a un solo sito. Purtroppo Eugenio non è ancora attivo in tutta Italia. Il servizio è comunque disponibile in svariate province italiane, ma tenete d'occhio il sito web. Eugenio infatti continua ad espandersi raggiungendo quindi sempre più località. Direi che per oggi è tutto, vi ricordo di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche e non. Ciao!